Creare un ponte che unisca Napoli e gli Emirati Arabi, così da favorire le opportunità di business e la collaborazione internazionale. E' questo il messaggio che viene da San Giovanni a Teduccio, dove si è svolto il terzo appuntamento del programma di accelerazione e di incubazione del progetto Infiniti Mondi, casa delle tecnologie emergenti di Napoli. Infiniti Mondi è un progetto del Comune di Napoli, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha l'obiettivo di mettere a disposizione delle aziende un centro di innovazione specializzato. L'evento è stato dedicato agli Emirati Arabi Uniti e alle opportunità di internazionalizzazione delle imprese nel settore delle industrie culturali e creative e delle tecnologie avanzate. Nella sede del Polo Tecnologico Fabbrica Italiana dell'Innovazione, i lavori, aperti dal presidente di SpiceSRL, Vincenzo Lipardi, hanno visto anche la partecipazione dell'assessore alla ricerca e innovazione startup della Regione Campania, Valeria Fascione, e del presidente della BCC, Amedeo Manzo. L'obiettivo di questo incontro è quello di raccontare le opportunità che ha il settore industriale napoletano, parliamo ovviamente di un settore legato all'innovazione, verso mercati importanti come gli Emirati Arabi Uniti, ma anche dimostrare ai tanti investitori del mondo arabo che Napoli è una città che merita di essere al centro della loro attenzione. Il rapporto tra la Campania e gli Emirati è già un rapporto abbastanza consolidato, abbiamo avuto una grande presenza all'Expo di Dubai. Credo che una banca debba essere anche un hub di idee che abbia la possibilità di far cooperare dai vari anime della nostra città per fare in modo che l'innovazione e la tecnologia siano realmente al servizio dell'uomo, ma soprattutto che diano benessere, cooperazione, miglioramento e attrazione per i nostri giovani. Presenza d'eccezione l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, a sua eccellenza, al Subusi, per la prima volta in città. Ho potuto vedere con i miei occhi quanto sono innovative le aziende italiane. Oggi abbiamo visto tecnologie, quali il quantum computing, l'intelligenza artificiale, abbiamo parlato di innovazione industriale, blue e green economy. Questi sono tutti i settori di punta dell'Italia ai quali anche gli Emirati sono interessati.